L'arte di Luigi Randi racconta l'umanità attraverso le opere scultore e raccolte nell'esposizione allestita allo spazio Farioli di Busto. Lavori intrisi di ironia e sagacia, caratteristiche che lo contraddistinguono sin dalle prime produzioni in argilla. Le sue sono delle caratterizzazioni estremamente grottesche che richiamano alla commedia dell'arte e anche alle caratterizzazioni di Adolfo Wilt. L'umanità di Luigi Randi vuole dissacrare il potere, del quale dà una rappresentazione sempre estremamente ironica. Tra le opere che molti eronicamente rappresentano il potere, per esempio, c'è questo pensatore, questo re pensatore seduto sul water, oppure questo comandante, questo re imperioso del potere. Però rimane poco, anche il suo destriero non è rappresentato con il tipico monumento equestre. E della sua forza rimane evidentemente soltanto l'espressione della sua virilità. Interessanti anche le opere che vedono figure intrappolate nella materia, dalla quale non riescono a liberarsi. Parte dell'ultima produzione comprende sculture nelle quali Randi cambia il suo modo di lavorare la materia, levigando nelle sagome. Sono corpi svuotati dove l'artista mette in risalto l'aspetto esteriore, lasciando a chi osserva il compito di indagarne l'anima. La mostra è visitabile sino a domenica, quando è stato programmato un reading musicale con letture tratte dal testo critico di Lara Scandroglio, accompagnate da improvvisazioni musicali di Ivo Stelluti.